Bentornati sono al Falco Challenge 11 Oggi andrò a bere in pochissimo tempo Ben 4 litri 1, 2, 3, 4 litri di acqua fredda Wow let's go Allora andrò a bere queste bottiglie qua giganti Che contengono un litro di acqua ognuna Iniziamo ora Let's do it now, let's go Welcome, welcome, welcome Vai, iniziamo con la prima bottiglia Andiamo Yeah, let's go 3, 2, 1, via In pochissimo tempo eh In poco tempo devo finire 4 litri di acqua fredda Manca più di mezzo litro in questa 2 litri 3 litri 4 litri 0 litri Challenge conclusa Challenge conclusa Grazie Ho bevuto Sono riuscito a bere Quel che sono riuscito a bere Grazie per aver visto questo video Vi ringrazio Ci vediamo Nella prossima Omar Falco Challenge Ciao 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 Ciao